I due tenissi italiani Bolelli e Babassori hanno conquistato l'accesso alla finale degli Australian Open a 2024 nel doppio. La coppia azzurra ha battuto quella tedesca Huffman e Koffer con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6, portando a casa la semifinale dello Slema e conquistando la finalissima con una grande prestazione. E intanto sale l'attesa per il match di domani a Melbourne tra Sinner e Diokovic. Il numero 4 al mondo sfida il campione serbo in paleo alla finale degli Australian Open. Il numero 5 al mondo sfida il campione serbo in paleo alla finale degli Australian Open.